Buongiorno Chiara, complimenti, seconda vittoria consecutiva in questa manifestazione, te l'aspettavi anche quest'anno? Assolutamente no, ho detto vabbè vengo più che altro è stata per un'altra cosa, ho detto vabbè partecipo anche al 121 anche quest'anno ma non me l'aspettavo proprio, ho detto quando sono passata in finale ho detto vabbè male che vada sono fuori i primi 10 ma prima non pensavo proprio. Parlaci un attimo di te. Cosa vi devo dire, ho 26 anni, monto a cavallo da quando ne avevo 11 e ho sempre montato con il mio istruttore Andrea Agostini, sempre supportata dai miei genitori, lavoro e la sera vado a montare a cavallo per passione. Parlaci anche di questo cavallo. Questo cavallo è un fenomeno. Senti, da grande cosa vuoi fare con la guidazione? Voglio continuare a tenermela come passione e continuare a coltivarla, mi piace ma preferisco che sia una passione mia e non un lavoro.